Ciao collega, tutto rego? Tu sei? Gigi Noc, sostituisco il vostro chitarrista per il corcetto del SS. Ah, sei l'amico di Giorgio? Piacere, piacere, piacere. Certo Giorgio, ragazzi, che sfiga, eh? Quattro gomme bucate in un colpo solo. Quella miseria. Capita. Succede. Senti, ma t'ho già visto da qualche parte, è possibile? A Rio? A Rio, sei stato a Rio? Ah, ragazzi, spiagge, donne, lì, insomma. No, no, a Rioveggio, vicino Bologna, c'è proprio il casello, c'è l'uscita, mi sono messo lì, un concertone, ti ricordo, bellissimo. Maggino. Ci picchia. O forse al Festival delle Giovani Proposte a Bologna? Giovani Proposte? Scusa, ma quanti anni hai tu? 27. Hai 27? Sto scherzando. Stai scherzando. Ricompio il mese prossimo. Ecco, stavo pensando, siccome Giorgio di solito apriva i concerti con un pezzo da solo. Sì, me l'ha detto. Se sei d'accordo, partirei con un mio cavallo di battaglia, una vecchia canzone del Poo dal titolo Tanta Voglia di Lei. Tanta Voglia di Lei, una cover. Bene, bene. Sì, sì, sì. Tanta Voglia di Lei, una delle prime canzone. Sì, un rearrangement tuo. Eh no, è proprio l'originale. Tipo un alternate version. No, 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 preferisco. Tanta Voglia di Lei, Depo, in italiano. Sì. E senti, la fa in playback? No, da ormai mi sono cambiato, perdiamo solo tempo. Sì. Come voi tutti. Quindi live, bella live. No, 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 tanta Voglia di Lei, Depo, voglio fare quella. Chitarra e voce. Esatto, sì, chitarra e voce. Unplugged. Unplugged. Preferisco da solo, chitarra e voce, come ho detto prima. Tanta Voglia di Lei. Vabbè, senti, dai, basta che la fai. E senti, questa scelta dell'Evergreen? Mi, se lo sapevo facevo un pezzo dal male e non c'era tutto sto casino, ragazzi. Eccoci, pronti. Ok. Senti, io vado, eh. Ti aspetto sul palco. Hai fatto il sound check? Guarda, non ci crederai, è passata come bagaglio a mano. A proposito, ascolta, ma quanto ci pagano stasera? Ah, non te l'hanno detto? No, stasera è beneficenza, non prendiamo niente. Come? Con tutta la fatica che ho fatto? Vabbè, per tirare giù un pezzo. O per bucare le gomme della macchina di Giorgio. A proposito, ascolta, ma quanto ci pagano stasera? Non ci crederai, non ci crederai.